oh perché non siamo andati sul coso lì? lo sapevo serve aiuto, bot, jungler, jungler why you don't help? posso smettere di registrare? sta andando benissimo che sta facendo? fa ridere il cazzo c'è un pisello e non si mette a ridere guarda che lì era morto eh con i minion era morto 10 sono in tre a che c'entra? quando si bursta qualcuno coltano dei minion è sorprendere ma certo serviva la massima coordinazione eh vabbè vieni ragazzi eh bravo ragazzi giochiamo per bene oh mio dio mi aveva appena detto che praticamente eri un po' scarso ma io io non accetto questo atteggiamento bravo fai bene a non accettarlo questo diazo l'ha fatto bene l'ha fatto bravo? cosa fai? sto boccando sto solo boccando sta boccando vuol dire che stai morendo si sto morendo eh se continuo a rassare vabbè non contestare il cazzo oh madonna guarda quando contestano sopporto il taunt vai vai non posso resistere ancora oh mio dio quanto sono dei scarsi è possibile io non ho visto il taunt di rambos non ce l'ho ancora già come non ce l'hai sa livello 4 oh mio figlio hai detto mediocre non lo so non so che fare che cazzo facciamo non riuscite neanche a uccidere un champion basta attaccarlo cazzo è troppo difficile perché è quello che fa che è poi crede che è morta quando è vincita le beccate era manzina non credo che è morta ma non ho usato la possibilità al meglio io cercavo di sfruttarlo al meglio anche se non aveva un taunt io non capisco non capisco perché sei andato a fare cosa vaffanculo a morire tanto sei inutile muori cazzo oh no 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 grande rambus ottimo no no non l'ho riuscita a fare tanto schifo